Questa è una valigetta e al suo interno ci sono 1000 euro e oggi a turno dovremo difenderla nascondendola nello Xenogravity di Milano e la squadra che ci metterà meno tempo a trovarla vincerà il contenuto al suo interno Le regole sono semplicissime, siamo divisi da due squadre, io e Ferro, Conto e Conti Conti mi spacchiamo il culo, mamma mia magari Ma mi spacchiamo il culo Ora, tralasciando il fatto che non ci spaccheranno il culo, le regole sono semplici Io e Ferro adesso dovremo nascondere la valigetta e avremo una quota che potremo passarci Se loro dovessero riuscire a prenderla, li dovremmo portare alla valigetta Che semplice Grazie Quindi uno può nascondere, cioè può cercare la valigetta Loro possono cercare, bravissimo Possono dividersi un po' Possono dividersi un po' Ragazzi dovete darci però adesso almeno due minuti Ok Ok Quindi capito di fargli i miei gambetti Aspetta, c'è il video spiegazione perché me lo voglio solo vedere Sto con una mappa concettuale, una video spiegazione, mettetevi le bende e non guardate, grazie Ok, vai Quindi loro nascondono la valigetta, poi c'è questa roba blu, questa codina Il nostro obiettivo è quello di prenderla Ok Però ci possiamo dividere i compiti Tipo io vado a cercare la valigetta e tu devi prendere questa coda Ok Se vorrei prendere quella coda, loro si devono dire dove sta la valigetta E poi noi dobbiamo nasconderla E così Ok Ok Ma non guardiamo, ci vediamoci L'importante è staccargli la coda Allora lori, seguici pure perché dobbiamo trovare un nascondiglio perfetto per la valigetta Lo sai già dove la andiamo a nascondere, vero? Eh, sì, ho già capito Cioè, ragazzi E ragazzi, per forza Anche se in realtà, secondo me ci sarebbero dei nasconditi migliori Bisognerebbe solamente cercarli Ma non abbiamo tempo per cercarli fondamentalmente Abbiamo solo due minuti, raga E se non ci credete Il cronometro è esattamente lì in quel punto, raga Eh, due minuti veramente Staccargli la coda Tu tu fagli cadere Che tipica, fagli male Ok Togli le ginocchiavi in faccia Allora, prima gli spacco il culo No In senso letterale E poi Glielo spacchi davvero No, no, letterale vuol dire che è proprio quello che fanno Sì, no, ok E poi magari quello metaforico Ma poi non c'è mai dovuto mettere la benda, non c'è Cioè, non c'è No, 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 aspetta La benda la metto No, no, no Non serve Magari, non ci sono neanche bentanti Io sto cercando di capire un posto magari che non possono sgamare qua in questa zona Io farei un tricks and tips Aspetta Eh, l'ho pensato pure io bro Eh Però secondo me si vede che tipo di altra Prova Se non si deve essere dentro Eh Si vede Si vede un pochetto Poco poco Stavo a morire No bro, niente La mettiamo qua dentro dai Cioè, oggettivamente Chi è che tiene la coda però all'inizio? Eh, bello Tu Sì, vai Tu Bro, di me ti puoi fidare quei trampolini La mettiamo? Sì, tranquillo Va di mezzo Ehi Proprio, guarda che trick che faccio Che faccio in tanto Oddio Conti No, non lo fai Conti, non lo fai Bro, sai che se io faccio sta cosa Tipo mi ritrovo senza collo No, infatti, non lo fai Di più bisogno Vabbè, conti Nel frattempo puoi anche utilizzare questo qua Sì, sì, sì Per riscaldarsi Tipo Ah, figata Aspetta Che cazzo era? Ma cosa stanno Ma cosa stanno facendo Laga, non è follia Aspetta, non riesco a metterla sotto Aspetta Mi metterla sotto Mi metterla mano Mi sa che abbiamo fatto un danno Abbiamo fatto un danno Mi sono spaventato Anch'io Ok, non volevamo Scusare È stato molto divertente Nascondi, 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 nascondi Vai Ok, 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 ok Ci siamo, ci siamo Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai Non aspetta, non così troppo sotto Soprò non la trovi in più Fidati, non la troverai Ok, vai, buttala sopra ora Vai Ok, ricordiamoci che è qua Sì, esatto Soprattutto speriamo che non è intelligente Che si deve lanciare Proprio qua in questo momento Aiuto, aiuto È difficile uscire da qua Lo giuro Ok Ferro Mettiamo la coda E ci siamo Sì, sono video Lo stanno Alla tempo Dei noto Le robe di buffo Come si chiamano? Quelle morbide Sì, ebbè Sì, sono tantissime Quindi sono una roba Come vediamo di video Adesso Tu li rincorri Io la cerco Allora, sì Io rincorro quello Con lo stanzolino Poi se mi passa vicino Lo faccio io Tanto è uguale Ragazzi, noi siamo pronti Siamo partì Oh, venite a prendere la coda di ferro Idioti Idioti Arrivano ferro Arrivano ferro Aspetta un attimo Che mi sto mettendo la codina io Vieni, vieni così Ma poi cosa stai facendo? Corro C'è la ferro Vai, vai, ferro Passamela qua Ferro, passamela qua Ferro, fattamela Ferro, alza, alza Veloce, alza Veloce 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 Siamo vancati Sì Mannaggia lui Ok Ascolta Ma il ferro scappa con la coda Scappa con la coda Ce l'ha, ce l'ha Ce l'ha, ce l'ha Ce l'ha, ce l'ha Ce l'ha, ce l'ha Lo so, lo so Tranquillo Tranquillo Ce l'ha, ce l'ha Ce l'ha, ce l'ha Mi faccio l'imboscata Gli faccio Mi faccio l'imboscata Tro Oh Oh Oh, mia tia Mi ha giocchata Sì L'hai presa La compro La c'è Quella che hai perso Ma ce l'ha riepe raga Ce l'ha riepe Sì No Facci tua Ciao Ciao Ma qua Dai Dai un calcio No ma io sto da Mi sento una cazzo di scimmia Raga Dobbiamo cercare la valigetta Dobbiamo cercare la valigetta Fermi Secondo me sta tipo qua In mezzo da qualche parte Dobbiamo stare molto molto attenti Allora Cerchiamo bene Eh ma qua raga È impossibile Mi dai Questa Allora Proviamo un attimo a scavare qui Adesso me l'hanno posizionata Qua sotto Non è facile Nel frattempo loro corrono Raga Forse l'ho scoperto No totalmente Vai 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 Trattenete ancora un po' No Sta facendo il giro Tu sei là La valigetta Non puoi Ma dove sta Ma dove l'hanno messa Ti ho fatto Voglio prendermi Rese Indizio Il lato è un fottuto indizio Per favore Sì Te lo do Conti te lo do Zucchiamelo Magari Stiamo andando sempre meglio signori Mi raccomando voi iscrivetevi al canale E come sempre un grazie allo Zero Gravity di Milano Che ci ha ospitato raga Per questi video folli Conti cerca la valigetta Basta mi sono rotto il cazzo Dobbiamo prendere il perro Sono vivo Sono vivo Non so come Guarda Non so come sono vivo Guarda Non sonoت Non sono superconvert superconvert no 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 ma dov'è chi sta dentro però arriva lì a cotti cosa non ce la faccio raga dov'è la valigetta che sta per scadere il vostro tempo vi arrendete no no non ci arrederemo mai però è inutile che ti è scappartato e adesso trova la fatta è il conti ferro sicuramente che cosa che cosa che hai fatto che hai fatto che abbiamo dei vincitori o no 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 va bene raga vale ma tanto ti hanno messo 10 minuti raga abbiamo dei signori vincitori che bravi scusate non va comunque tu hai attaccato alla valigetta non sto scherzando stavo guardando però non c'è inizia adesso il secondo round a squadre invertite due a metterci meno di 10 minuti raga allora dobbiamo fare il secondo round ma abbiamo un problema non si trova più la valigetta raga aspetta conti che vado tutta la zero allora facciamo una cosa facciamo il secondo round il primo di voi due che la trova vince il premio quanti vince il premio ti vuoi muovere per favore ecco non ti lanciate a guardo non ti lanciate che è proprio in quella zona la valigetta raga li avete cercato per favore aspetta ripeto per favore chi ha trova vince mille euro ok io e ferro abbiamo deciso di non prenderli questo è quello che fa allora ma cerchate la nostra valigetta per favore ma la sta cercando ma è improbabile ok ok sei nella zona giusta conti sei nella zona giusta conti oddio mio mi sarà apertiare una piedata in faccia scappiamo tutto distruggiamo sto posto stai facendo la scolarizzazione con Powa quindi puoi spartire il tempo io la vedo io la vedo ma come la vedo aspetta fermo ma dove la vedete allora è acqua quella ma come è acqua acqua Conti sta andando in oceano Powa sta andando in mareamento dai poi ancora acqua quanti stanno verso il fuocchino va ancora abbastanza bagnato ok Powa attenzione Powa fuocchino Powa fuocca via trova l'ho trovata l'ho trovata che la tira prima fuori tiratelo fuori tiralo fuori ma è sotto di voi ma come è possibile no ragazzi ma è fuori è lì sotto aspetta toglieteli l'ha trovata l'ha trovata l'ha trovata no finalmente oh ragazzi abbiamo finito finalmente l'hanno trovata tiralo un'altra volta tiralo un'altra tiralo un'altra ancora porca no stavo per prenderlo lori faccio il mio devo prendere lori penso di sviluppo oh basta chiudiamo questo video ragazzi chiudiamo il video per voi ciao a tutti